Alcune saracinesche si rialzano, altre sono ancora chiuse. Sono questi gli ultimi giorni di vacanza per chi si vuole godere il caldo d'agosto. Bari riprende la sua vita quotidiana timidamente fra i ritorni e le parole dei cittadini intervistati. Com'è questo ritorno? Come lo sente questo ritorno alla normalità? Insomma, è un po' faticoso riprendere. Beh, insomma, la settimana prima di ferragosto abbiamo lavorato un po', ma in questi giorni sono ancora tutti in ferie, quasi è vuota la città. Ancora no, non c'è molta gente. E ho visto tanta gente in centro. Io poi abito a San Giloro, invece a San Giloro per il vento, ieri sera nessuno c'era. Per la tramontana che sono scappati tutti in centro sicuramente. Il turismo non manca, continuano ad esserci i visitatori nel centro che scelgono la città per i suoi monumenti, il mare e l'immancabile cibo. Ma soprattutto i turisti che hanno visitato Bari, cosa portano con loro? Certamente un buon ricordo di Bari perché è una bella città. Come clima, come sole, come mare, come tutto. Il mare? Solo per i turisti, per noi, noi siamo poveretti.